Abbiamo fatto un grande salto di qualità in questi anni, siamo passati dal tema dell'impegrazione all'inclusione, adesso dobbiamo farne un altro, passare dall'inclusione alla valorizzazione dei talenti e delle competenze di tutti, quindi questo è importantissimo, però è chiaro che quando parliamo di famiglia, quando parliamo di figli, di sostegno alla genitorialità non possiamo non pensare al tema della conciliazione e devo dire che Regione Lombardia in questo ha scelto una linea di politiche molto attente sia per le aziende sia per le donne stesse, mettendo appunto al centro un sistema, una rete di supporto con anche dei bandi e delle misure che possono davvero permettere di conciliare, oltre al fatto che noi abbiamo tanti asili, mentre non in tutte le regioni questa strutturazione esiste.